Non so se proprio mi definirei architetto. La definizione che forse mi piace di più è una definizione anglosassone. È una definizione legata al design. Design come volontà di partire dal presente e cercare di cambiarlo. Per noi l'architettura e più in generale il progetto è un modo per esplorare i futuri possibili. In qualche modo il digitale diventa parte dell'architettura. Un'architettura non più statica ma che cambia insieme a noi. Non ricordo un momento particolare in cui ho deciso di seguire questo percorso. Confrontarmi con il mondo che ci sta attorno è sempre cercare di trasformarlo. E' proprio dentro di noi, fa parte dell'evoluzione naturale, fa parte in qualche modo di trasformare l'ambiente in cui viviamo. L'architettura in ultima analisi è la nostra terza pelle. La pelle biologica che ci ricopre, i vestiti come la seconda pelle, l'architettura è quasi come una terza pelle. Isplora.com